Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Ci stiamo pian piano avvicinando alle elezioni europee. Stiamo incontrando alcuni esponenti dei vari schieramenti che cercheranno di entrare in questo caso nel Parlamento di Bruxelles. Do il benvenuto, ben ritrovato, all'Avvocato Marco Mori. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto a Ugo Rossi, consigliere comunale a Trieste per Insieme Libere, che è uno degli schieramenti dei gruppi della listone, cosiddetto listone Libertà, di cui parleremo oggi. Benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Consigliere comunale, tra l'altro, di Trieste, eletto a ottobre 2021 con un risultato molto importante, calcolando lo schieramento piccolo, addirittura il 5%. Marco, guarda, siccome noi ci siamo conosciuti ancora nel 2016, ti ho intervistato nel 2016, quanto passa il tempo, ecco qui il libro che ci ha fatto conoscere il tramonto della democrazia. Me lo ricordo. È anche un attestato di coerenza, visto che insomma sono passati parecchi anni, ma io dico esattamente le stesse cose che scrivevo lì. Assolutamente, un libro preziosissimo ancora adesso. Qualcun altro i libri li ha rinegati poi nella sua attività politica. Va bene, sai, ecco i percorsi cambiano, l'importante secondo me comunque è la coerenza nei limiti ovviamente del cambio di vedute di visione. Dipende che tipo, qual è lo scopo del cambio di visione. Adesso non stavamo facendo riferimento, io personalmente, a nessuno. Ma Marco, senti, allora, la lista, detta anche il listone libertà, era gruppa, quante sigle? Dunque, non so se siamo arrivati a 18, 19. Io qui ho segnato Vita, la cui fondatrice è Sara Cunial, De Luca sindaco d'Italia Sud chiama Nord, noi agricoltori, popolo Veneto, capitano ultimo, movimento per l'Ital Exit, Rizzi, civici in movimento, insieme liberi, partito dei pensionati, grande Nord. Qualche avversario lo definisce un calderone? Ma lo è sicuramente, però c'è un minimo denominatore, nel senso che comunque sono tutte forze euroscettiche, tutte forze contrarie a quanto sta accadendo ad esempio in Ucraina, quindi contrarie alla guerra e anche sulla questione Israele e Palestina stessa posizione, e sono tutte forze contrarie anche alle misure liberticide che abbiamo visto in fase pandemica. Poi, ciascuno, essendo appunto non un singolo partito, ma tanti gruppi che corrono semplicemente insieme ai fini di non raccogliere le firme e superare lo sbarramento, ciascuno porta le sue istanze. Ad esempio, oggi qui noi due siamo due rappresentanti delle istanze più dure verso l'Unione Europea. Noi non pensiamo che sia possibile modificare l'Unione, pensiamo che debba essere distrutta, dopodiché una volta distrutta si possono fare nuovi accordi internazionali diretti alla cooperazione tra stati, questo sicuramente sì, ma così come impostata non è riformabile perché è studiata appositamente per distruggerci. Altri all'interno della coalizione pensano ancora e sperano che sia possibile riscattare la sovranità con delle modifiche ai trattati. Noi riteniamo che questa imposizione sia sbagliata, ma il bello della democrazia, con il voto di preferenza, è che potranno scegliere gli elettori se votare i falchi della coalizione o chi in un ambito comunque di eurosceticismo ha una posizione più moderata. Quindi non ci sono diciamo problemi dal punto di vista del percorso politico, perché poi anche una volta eletti ciascuno rimane all'interno del suo simbolo. E dopo parliamo del percorso politico. Ugo Rossi, qual è stata la motivazione che l'ha portato ad aderire con il suo schieramento Insieme Liberi? Insieme Liberi è nato lo scorso anno alle regionali del Friuli Mezza Giulia, avevamo replicato addirittura il 5%, poi sempre per i soliti giochetti del sistema non siamo entrati con due consigli regionali per pochissimi voti che sono stati fatti sparire, poi anche tutti i giochi di Federiga che ha anticipato le elezioni per cercare tutti i modi di tagliarci fuori. E quindi abbiamo già fatto un'esperienza in cui eravamo riusciti a unire dal basso la nostra area politica a livello regionale. C'erano tutti a parte diciamo quelli di Rizzo e Toscano. Dopodiché abbiamo intrapreso un percorso a livello nazionale per cercare di replicare lo stesso modello vincente in Friuli Mezza Giulia a livello nazionale. Dopodiché a un certo punto siamo partiti con la raccolta firme e per presentarci alle elezioni europee abbiamo assistito agli ennesimi giochi del sistema per tagliar fuori le voci scomode. Sto parlando dell'emendamento di Fratelli d'Italia che circa due mesi fa o un mese e mezzo fa ha tagliato fuori l'esenzione estera per le elezioni europee che era il nostro piano B e quindi una volta che De Luca ha fatto un appello, ha aperto la nostra area politica antisistema abbiamo intrapreso un percorso interno di riflessione che ci ha fatto ponderare pro e contro e abbiamo deciso di accettare anche perché quando l'abbiamo incontrato non ci ha messo nessun tipo di veto sui temi e sulle nostre battaglie politiche. Quindi noi siamo liberi di esprimerci e di portare avanti tutti i 21 punti fondanti insieme liberi come ad esempio l'uscita dell'Unione Europea, dalla Nato, da tutte queste sovrastrutture di potere. Quindi a livello di coerenza non abbiamo dovuto rinunciare a nulla. Addirittura all'interno del manifesto comune siamo riusciti addirittura a inserire un punto per la libertà di scelta, un contrasto all'OMS e al Green Pass globale. Quindi per noi è stato comunque un atto anche da parte sua, come più volte ha detto, di ammissione di errori che ha fatto in passato, che ha pagato poi sulla sua pelle. Quindi è una grande occasione da un lato perché ci permette di contaminare delle realtà e aree politiche da noi magari in passato distanti con la forza dei temi. Anche alla presentazione comunque di Roma, di libertà, il tema sovranista, il tema della lotta al Green Pass, la battaglia per la libertà di scelta è stato molto forte. incollante diciamo. Esatto. E senti Marco, quindi questo di libertà è un listone di scopo in pratica? È un listone che mira a bypassare quegli strumenti liberticidi studiati a tavolino per impedire ai nuovi di entrare in politica. Con le soglie di sbaramento attuali nella storia repubblicana non sarebbe mai nata nessuna forza politica nuova. Nessuno è in grado senza visibilità mediatica di prendere un milione di voti e passare lo sbaramento alle politiche. Idem per le elezioni europee, dove lo sbaramento è ancora più alto. L'unico modo per cercare di riuscire ad aggirare questo era assolutamente un'azione del genere, che avevamo più volte ventilato anche a livello locale, abbiamo tentato alleanze, le abbiamo fatte. Quando le abbiamo fatte abbiamo ottenuto risultati, perché insieme liberi in Friuli era uscito, è rimasto fuori veramente per una manciata di voti, con un risultato estremamente buono dal punto di vista della scarsa visibilità che si aveva come forze politiche. Quindi un 4% è straordinario come risultato. Non sono entrati appunto per pochissimi voti. A Genova, un esempio analogo di coalizione delle forze antisistema, aveva prodotto un'elezione di un consigliere comunale, Mattia Crucioli, uniti per la Costituzione. E quindi avevamo già dimostrato che quando si corre uniti riusciamo a bypassare quegli strumenti di controllo del sistema. Cateno quindi ci ha dato un'opportunità storica, veramente storica, e questa opportunità va sfruttata, perché è evidente che noi sappiamo perfettamente, visto che conosciamo cos'è Bruxelles e quali sono le sue regole, che da Bruxelles non possiamo cambiare nulla. Possiamo però prendere visibilità, essere i vigili anche delle ulteriori porcate che arriveranno da lì e arrivare a questo punto, alle prossime politiche, non per qualificarci, per sperare di passare lo svanamento, ma arrivare alle prossime politiche con la visibilità acquisita per fare un risultato storico, quindi per puntare dritti al governo del Paese. Però per puntare al governo prima devi esistere pubblicamente. E questo è uno step formidabile per il quale, può stare simpatico o antipatico, dobbiamo comunque ringraziare De Luca perché noi siamo qui grazie all'opportunità che ci ha dato e ce l'ha data senza limitazioni sui contenuti. Noi siamo liberi anche di criticarlo quando non condividiamo alcune sue posizioni. E nessuno ci dice niente, quindi meglio di così non si poteva sperare. Poi vedremo, ripeto, se dopo le elezioni sarà possibile continuare un percorso comune se c'è contaminazione sui temi principali. In quel caso sicuramente si potrà parlare, se non magari con tutti, con parte delle forze politiche che sono entrate, che comunque hanno molti punti in comune, anche di euroscettici ne abbiamo fortemente, euroscettici ne abbiamo anche. Volevo chiedere Ugo Rossi, qual è la problematica? Viene detto, è sollevato come problema se non addirittura rinfacciato, dice ma come con Cateno De Luca quando la maggior parte degli schieramenti era contro il Green Pass, contro i sieri. Noi adesso e adesso vi alleate. Come replica? Sì, come ho accennato un po' prima, Cateno De Luca comunque ha messo più volte, anche di recente, c'è stata anche un'intervista con Sara Cugna e Redroni, in cui lui ha pagato sulla sua pelle la scelta che ha fatto in buona fede. Bisogna anche ricordare che quando si è accorto che stava per essere strumentalizzato dalle direttive e dall'alto, ha iniziato a porsi al Super Green Pass, ha fatto i bus per mandare a scuola i ragazzi non vaccinati e comunque ha messo i suoi errori e questo vi va riconosciuto. Poi comunque lui ha guadagnato un'esenzione sul campo, che tra l'altro Fratelli Italia ha tentato anche di toglierla, questa esenzione, e l'ha condivisa con chi di fatto stava per essere tagliato fuori in un momento storico particolare e quindi era importante esserci perché non c'era alternativa. È da chiedersi qual era l'alternativa. L'alternativa sarebbe stata dare campo libero a Stati Uniti d'Europa, una lista che io considero, e anche Marco considera, avversiva, perché va al passo successivo Stati Uniti d'Europa, poi nuovo ordine mondiale. E poi c'è tutti i venti di guerra in Europa, c'è in discussione il discorso sul Digital Service Act, quindi la censura, il bavaglio al web, tutte queste politiche dell'Unione Europea che vanno contrastate in tutto il mondo, in ogni modo. E poi c'è la possibilità di far rete con altre forze anti-sistema, di altri schieramenti europei che si presenteranno. Alcuni ci hanno già contattato, con alcuni siamo in contatto già da qualche mese. Comunque sarà possibile fare un gruppo europarlamentare, come fece Farage, completamente anti-UE, e crescere a livello nazionale, quindi creare quella massa critica a livello nazionale per poi attuare l'uscita, perché è l'unico modo per attuare l'uscita, non è un referendum, addirittura c'è chi sta facendo girare voci che se l'affluenza andasse sotto il 50%, allora a quel punto andrebbe fatto un referendum per uscire dall'euro. Quindi non è così, non è possibile mettere al referendum trattati internazionali per la Costituzione, per l'articolo 75, l'unico referendum è votare una o più forze anti-sistema, anti-euro, che diventino maggioranza dalle prossime elezioni e attuino l'uscita dall'Unione, ecco, quella è l'unico vero referendum. Certo, in Germania, no, Marco, c'è il movimento anti-euro che ormai sta prendendo molto piede, no, Alternative für Deutschland, che è accreditato intorno al 30%, ma poi anche il movimento della Sarah Wagenknecht, no? Sì, tra l'altro con loro ai tempi mi ricordo che c'erano stati anche dei rapporti, è stato tradotto anche il libro che hai fatto vedere prima in lingua tedesca, quindi sicuramente ecco, uno degli altri elementi per cui sarebbe utile essere in Europa è poter tessere alleanze con quelle forze che anche gli altri paesi vogliono distruggere l'Unione per creare nuovi rapporti internazionali, quindi questo potrebbe essere una sinergia importante che potrebbe darci ancora più visibilità, ancora più forza, ancora più voce in capitolo e poi ovviamente bisogna uscire dalla bolla per parlare con i cittadini che sono completamente e sempre ogni giorno bombardati dalla propaganda e se non sentono parlare qualcuno di diverso, cosa che sarebbe accaduta senza la nostra presenza a queste elezioni, fisiologicamente tendono a credergli, quindi la nostra presenza sarà un punto di fortissima rottura e ha una grossissima chance stavolta di portare i nostri uomini nelle istituzioni perché chiaramente si lavora insieme, si lavora all'unisono, abbiamo dei candidati forti, non ci sono personaggi mediatici particolari che possono godere di preferenze drogate, quindi ce la giocheremo abbondantemente nelle circoscrizioni, De Luca è molto forte in Sicilia, quindi lì sicuramente riuscirà a essere eletto se passiamo allo sbarramento, ma ci sono poi altri 4-5 posti, minimo se siamo poco oltre il 4% e via via di più se ci avviciniamo al 6-7-8%, che sono risultati possibili senza fuoco amico, cioè se non avremo altre opposizioni che ci giocheranno contro, magari anche raccogliendo le firme solo in un collegio, giusto per il gusto di togliere voti a noi, francamente stavolta avremo la chance di mettere dei nostri rappresentanti sui nostri contenuti dentro le istituzioni e poi questi rappresentanti diventeranno il megafono per tutti, per poi cercare di correre tutti insieme alle politiche, perché il nostro obiettivo è unire, ma unire anche chi ancora una volta ci ha preso a ceffoni, anche stavolta, per posizioni di ego e di narcisismo, sbagliate, nuovamente sbagliate, ma noi nel momento opportuno gli riapriremo di nuovo la porta, se è per il bene del Paese, quindi noi non chiuderemo la porta agli altri, la riapriremo nel caso anche a chi ha dimostrato insomma dei limiti caratteriali. Senti Marco, mancano circa due mesi, le elezioni sono l'8, il 9 di giugno se non sbaglio, due mesi scarsi, però con la situazione a livello internazionale con queste dinamiche che sono veramente vorticose e pericolose, sono tempi ancora abbastanza lunghi, cosa potrebbe succedere secondo te a livello anche internazionale che potrebbe smuovere le acque proprio in occasione del voto? Potrebbe verificarsi qualcosa secondo te? Di positivo ahimè vedo poco, io sono molto preoccupato dalla follia di Netanyahu, Netanyahu è uno dei personaggi più pericolosi in questo momento che possono esistere sullo scenario internazionale, lo ha dimostrato, lo sta dimostrando con i crimini che portano avanti a Gaza, i crimini che hanno portato avanti contro la Palestina anche precedentemente, è un razzista, è un suprematista, si rapportano a tutti gli altri con totale senso di ogni potenza, come ha dimostrato anche l'attacco che è stato fatto all'ambasciata iraniana, che francamente è totalmente fuori dal diritto internazionale e ora la mia grossa preoccupazione è che dopo la risposta più che altro simbolica dell'Iran per far capire che sono in grado di colpire i bersagli dichiarati, perché poi anche lì la propaganda ha lavorato, l'Iran ha colpito le due basi che voleva colpire, ha dato un'impressionante prova di forza dimostrando di superare l'Iron Dome e dice la nostra risposta qui si esaurisce, ora basta, non rompete più le scatole, poi insiste ovviamente in difesa. Sembra che Netanyahu abbia solo che voglia di rilacciare invece, no? Un attacco violento contro l'Iran e scatenasse una guerra diretta è chiaro che la situazione è molto pericolosa, poi la palla passerebbe a Biden, se confermasse il non intervento americano contro l'Iran il conflitto rimarrebbe locale e Israele andrebbe incontro a una sconfitta certa contro l'Iran, se invece gli Stati Uniti intervenissero direttamente la Russia intervenirebbe a sua volta in difesa dell'Iran, quindi di fatto ci troveremo altro che a fare le elezioni, ma direttamente nella terza guerra mondiale e in questo momento appunto il più pericoloso è proprio la follia di Netanyahu che è capace di tutto, io spero che riescano a frenarlo. Ti faccio un'altra domanda e poi passiamo nuovamente a Ugo Rossi di Insieme Liberi, si parla, si vocifera di Mario Draghi come del successore della von der Leyen, tra l'altro ieri ha fatto delle dichiarazioni, vi chiedo di commentare alla conferenza europea sui diritti sociali, diceva proporrò un cambiamento radicale per l'Unione Europea, credo che la coesione politica della nostra Unione richieda che agiamo insieme possibilmente sempre, dobbiamo essere coscienti che la coesione politica è minacciata dai cambiamenti del resto del mondo. Poi parla di ripristinare la nostra competitività, non è un qualcosa che possiamo ottenere da soli o gareggiando a vicenda, ci impone di agire come Unione Europea in un modo che non abbiamo mai fatto prima. Ripristinare la competitività, ma in questi ultimi anni insomma, direi lui al governo e poi anche con le sanzioni alla Russia di cui è stato uno dei principali promotori in assoluto, non è stato molto a favore, non ha dato molto un contributo, no? A favore della competitività. Marco? No, beh, lui va nella direzione opposta, poi le dichiarazioni di facciata, per carità, possono starci e sappiamo che fanno parte del gioco, ma Draghi era lì per completare un disegno, per affossare ulteriormente il paese. Si è passati da un'emergenza all'altra, la guerra è stata la continuazione dell'emergenza Covid. L'emergenza sapete perfettamente che è lo strumento con cui poi impongono le cessioni di sovranità. Lo dichiarò anni fa Monti, no? Le crisi, le gravi crisi sono lo strumento per obbligare i popoli a cedere sovranità, perché appunto quando c'è una crisi visibile e conclamata, il famoso costo psicologico di non fare le riforme supera quello di farle, ed ecco che a quel punto si riescono a fare quei passi che anche per senso di appartenenza dei popoli prima non sarebbero possibili. Draghi è quello che aveva elegantemente definito Cossiga. Il vile affarista, per i suoi comparuzzi delle multinazionali, Goldman Sachs, eccetera, che per tutta la carriera ha lavorato per distruggere il nostro paese. In condizioni normali, proprio ai termini di legge, dovrebbe essere processato. Non si capisce come sia possibile non avere la comprensione del disvalore di tutto quello che ha fatto questa persona nella sua vita. È sempre legato alla propaganda. Cioè la nostra presenza, anche da questo punto di vista, a livello pubblico, determinerebbe anche la possibilità di aprire dei processi. Perché se si sente parlare in modo diverso si ricorda la carriera di certe persone, a partire da quando la direttore del Tesoro salì sul panfilo Britannia per svendere l'industria pubblica nazionale. Cioè sono fatti gravissimi. Sono delitti contro la personalità giuridica dello Stato. È un tradimento dello Stato. E tutto questo, se fosse portato all'attenzione, certamente potrebbe cambiare la percezione pubblica su determinate persone che ora vanno avanti per completare il disegno. Se lui ne avrà voglia, potrebbe essere sicuramente un candidato papabile per la prossima presidenza della Commissione europea. Sì. E tra l'altro, tra l'altro, Ugo Rossi ha fatto un passaggio molto interessante proprio in questa conferenza europea sui diritti sociali, Mario Draghi, che dice maggiore integrazione se non a 27 tra chi la vuole fare. È interessante questo aspetto. Quindi non dà per scontata la coesione dell'Unione europea alla fine. Vabbè, in Unione europea ci sono comunque delle posizioni anche molto critiche, soprattutto in alcuni paesi dell'est, basta pensare all'Ungheria. Ovvio che loro stanno lavorando per arrivare agli Stati Uniti d'Europa. Già nella Commissione affari di Costituzione dell'Unione europea stanno discutendo da mesi ulteriori cessioni di sovranità. Parlano di debito comune, quindi di ridistribuire. Mario Draghi stesso, prima di lasciare la presidenza del Consiglio, fece approvare una legge al Parlamento dove instaurò la sopprendenza speciale per la gestione dei fondi del PNRR, che di fatto è un MES mascherato. Hanno prestato a debito all'Italia miliardi di euro che i comuni e le regioni stanno utilizzando, ma che di fatto ha dato un potere speciale a dei tecnici messi lì da Mario Draghi, che rimarranno in carica fino al 2026, mi pare la legge sia la 108 che il 2022, e che hanno potere addirittura di commissariare comuni, regioni, addirittura lo stesso governo. Quindi è chiaro qual è il loro obiettivo e noi dobbiamo fare il massimo per opporci. Per quanto riguarda invece il potere fissionista, quello che sta facendo in Israele, il genocidio sta compiendo, ma di fatto l'influenza di questo potere lo vedo addirittura in un Consiglio comunale, quando per mesi mi hanno censurato una commemorazione delle vittime civili palestinesi, io l'ho presentata fino a ottobre, sono riuscito a discuterla dopo la settima volta che l'ho presentata. Ogni volta la maggioranza di centrodestra, che sicuramente subisce l'influenza israeliana, che magari elargisce denari a destra e a sinistra, e lo vediamo comunque come anche il governo si assuccube e allineato alla Nato, e allineato alle azioni di Israele. Quindi ancora maggiormente era importante fare questa scelta unitaria, io ricordo ancora un bellissimo video di Giulietto Chiesa, quando faceva questo proprio appello polare di fare questa lista del popolo che andasse a liberare l'Italia dalle gabbie dell'Unione Europea e della Nato, ecco adesso abbiamo l'opportunità, era la migliore opportunità possibile che potevamo realizzare, noi ci avevamo provato già mesi fa a cercare di unire il nostro fronte, non è stato possibile, mi ricordo una riunione che fece a Firenze, dove c'erano praticamente tutti, forse a parte Rizzo e Toscano, tutte le varie realtà della nostra area, e chi con una scusa, chi con l'altra, si è defilata dalla possibilità di presentarci in maniera unitaria alle elezioni europee, potevamo raccogliere le firme già sei mesi fa, a partire da novembre, ma c'è stata frammentazione, e adesso oggi tanti ci criticano per questa nostra scelta. Ecco, ripeto, l'alternativa non c'era, questa era l'unica, e comunque si sta rivelando, secondo me, un'alternativa credibile, perché ci permette di mantenere le nostre posizioni, e anzi, magari contaminare gli altri, risvegliare nuove coscienze, e portare la nostra realtà, che magari fino a un anno fa, o qualche mese fa, erano dall'altra parte, e questo è l'unico modo per diventare... Certo, chiaro, chiaro. Senti Marco, c'è stato un esordio, mi sembra, a livello di sondaggi piuttosto incoraggiante, no? Mi sembra, per la lista Libertà. Ma assolutamente sì, perché un po' come avevamo pensato, valutando il peso dei singoli gruppi, siamo già sullo sbarramento, dal 3,7% di porta a porta, altri che ci danno intorno al 3%, uno addirittura ho visto 3,9%, cioè comunque tutti ci rilevano, quindi vuol dire che c'è il peso, ma ribadisco, basta semplicemente guardare cosa abbiamo fatto, come vita, quello che aveva fatto Italexit, non c'è Italexit a questa tornata, c'è movimento per l'Italexit, che rinasce però con gli stessi valori e gran parte degli uomini di Italexit, e in più ci sono candidati che erano di Italexit, che ci sono comunque anche stavolta, come me, Francesca Modeo e altri, quindi loro ci sono, c'è ovviamente insieme liberi, vita, alla fine è rimasto fuori, soltanto come sempre sono rimasti fuori gli amici di DSP, ma gli altri ci sono tutti, quindi se ci pesiamo e gli elettori credo che si ricordano cosa hanno votato nel 2022, già soltanto con quei voti noi passiamo il 4%, solo con la nostra area, figuriamoci il momento in cui noi abbiamo la somma di tutte le altre aree, perché tenete presente che il 4% all'europeo, considerando la riduzione dei votanti, è più facile ad ottenere, servono meno voti, un 4% all'europeo probabilmente richiede meno voti assoluti rispetto alle politiche, perché le politiche vanno a votare quasi tutti, all'europeo ci attesteremo se va bene intorno al 50%, l'importante è che siano i nostri ad andare a votare, perché questa è un'occasione storica, cioè se facciamo il voto ed è possibile a questo punto non passare solo lo sbarramento, ma passarlo di tanto, significa probabilmente mettere 4-5 dei nostri, cioè voi pensate all'impatto comunicativo di 4-5 persone radicali come siamo noi su tutte le posizioni di cui il mainstream sempre parla esattamente al contrario, cioè creiamo qualcosa veramente di spettacolare per il futuro, e tra l'altro 5 che non sono affetti di narcisismo patologico, ma che vogliono unire il fronte e quindi metteranno a disposizione di tutti la visibilità acquisita, non la terranno per loro stessi, è questa anche la grande differenza. Ugo Rossi, si arriverà in futuro a una unione nell'area degli schieramenti che non sono rappresentati oggi in Parlamento e che quindi portano avanti determinate istanze che sono in contrapposizione al mainstream? Io ci credo e darò il massimo contributo personale, anche come Insieme Liberi e lo stesso Marco e tutti gli altri che hanno scelto di aderire alla libertà della nostra area per unire il nostro fronte politico, c'è la possibilità di farlo, tra l'altro il sistema ha lanciato anche un messaggio il giorno della pubblicazione del sondaggio a porta a porta che ci dava il 3,7%, perché c'è Bocci che dialoga con quell'altro di Fratelli d'Italia e iniziano a discutere, a criminalizzare liste civiche, addirittura devono fare un accordo sullo sbarramento, questo sbarramento lo possono portare anche al 5%, imparando degli errori del passato bisogna crescere e non commetterli, questo è anche stato un motivo per cui siamo convinti di cogliere l'occasione che secondo me non ci sarebbe mai stata in futuro, perché questi le studiano con anticipo. Certo, ho un'ultima domanda, visto che si parlava di soglie di sbarramento, tu so Marco che sei sempre stato favorevole all'assenza proprio di soglie di sbarramento, no? Allora, il principio è che in democrazia i parlamenti devono rappresentare il reale specchiato della società, se tu tagli fuori delle fette della popolazione inserendo delle soglie di sbarramento distorci la rappresentatività democratica, poi la possiamo chiamare come vogliamo, possiamo invocare la Corte Costituzionale che è sempre più politicizzata, negli anni ha dato l'ok a leggi elettorali impresentabili, possiamo dire quello che vogliamo, ma non è democrazia, democrazia è nel proporzionale puro, quindi le leggi senza nessuna logica emergenziale e sotto vent'anti per motivi economici, quindi senza di queste problematiche semplicemente il Parlamento è libero di reciferare solo quando esiste una reale volontà dei cittadini in questo senso. Per i padri costituenti il voto doveva essere così, sbarramento allo 05, con lo sbarramento allo 05 noi saremo già entrati nelle istituzioni, saremo già presenti, saremo già opposizione con vari parlamentari, ma meglio ancora, con lo sbarramento allo 05 non saremo mai finiti in queste condizioni, perché tutte quelle leggi che sono andate avanti calpestando il popolo negli anni non sarebbero mai state approvate se ci fosse stato un Parlamento che era la reale espressione della società. La gente non vota fondamentalmente perché non si sente più rappresentata e le soglie di sbarramento in questo hanno avuto un ruolo centrale. La democrazia, lo ribadisco da un concetto che deve entrare in testa a tutti, c'è soltanto non con l'uomo solo al comando ed elezioni per scegliere di volta in volta chi è l'uomo solo al comando, ma soltanto con un'assemblea che rappresenta a pieno tutte le sensibilità di una società. Chiaro. Siamo in chiusura, io ringrazio Marco, l'avvocato Marco Mori, ringrazio Ugo Rossi che entrambi esponenti della lista Libertà, naturalmente avrete i prossimi due mesi scarsi di grande impegno, vedremo cosa avviene. Grazie, grazie ancora. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori. Grazie.